Se volete acquistare credit fifa a basso prezzo andate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 5% di sconto Bella ragazzi trapani, bentornati qui sul canale GRANANAS, siamo tornati con Rotwatchi 2 E la facciamo molto easy l'intro perché non abbiamo fatto vedere la squadra, tanto non ci stanno nuovi innesti C'è solo Calidu, Coleibaly Esatto, che fa troppo ridere il nome però vabbè Tocca Chopin infatti, per forza perché sennò qua non si arriva da nessuna parte Procinone Comunque fateci sapere perché Ecco A parte il fatto che lagga, stavamo pensando, ok posso continuare a parlare, sì grazie Stavamo pensando di arrivare a 15.000 e invece che comprare Pjanic Provare, cioè tentare la sorte e farsi una draft, cioè fare una draft Una modalità di un torneo draft e magari vince qualche sordo Eh, fuorigioco no Qualche sordo vero, qualche sordo vero, qualche sordo vero Sul primo palo, no Ma perché non le posso... Perché perché ne hai passato, hai ricoperto Fanzi, stavamo perché... Oh, Stavina! Non lo so, è con Evro probabilmente Giallo L'arbitro Witzel Quindi fateci sapere se vi interessa la modalità draft Oddio Amsic Oddio Amsic 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 E che cazzo Non è possibile, non è possibile, dai Vai Partiti Partiamo, non partiamo Cervinio, Cervinio Andiamo, partiamo, non partiamo Lei va nessito E che cazzo sta di niente Fallo Eh dai Mannaggia a te che male hai passato Guarda la merda Ce l'ho tutti in merda E comunque panaggio Tiscone Sempre lui Vabbè ma Cervigno è tutto lui Ha aperto la difesa come il ritorno rio mare A riguardo a Riccardi come è partito Bella Rimetti a mezzo E che cazzo Ma non ti coglioni Ah vabbè Mamma mia il frosinone raga Un frosinone con la bandiera del venezuela Guarda che sto a fare Perché non mi funziona Perché non mi funziona Quello per fare la mia finta classica La suola Se funzionava alzava un porta Guarda Mamma mia che pezzo ho fatto Che pezzo ho fatto Mamma mia Quanto è forte Falke Ma tu hai visto Fa sparire la gamba in mezzo alle palle Regà 3 a 0 cioè Siamo ritornati alla grande Mamma mia che azione Che rigore Oddio i rigori qua Sono una cosa incredibile Destra Sempre a destra Incroce incroce E punto destra Punto incroce Olè Fanculo Eh ma risegna l'Anto Per cazzo risegna Ai gelbi Qui ne abbiamo tempo 3 a 0 ragazzi Incredibile Oh Dai lo siamo tornati col botto Ma ci si è disconnetto a qualcosa Davvero? Sì De chiudore? Tiraci Guardalo Rudi Mamma mia Che scarparo raga Bello che dicono che batte pure bene le munizioni Capite? No Non so perché è andata così lontano Gervinio 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 Guarda in mezzo Non guarda in mezzo Perché ne frega un cazzo Perché segna comunque Perché è una bestia Cazzo vuoi? È una bestia È una bestia Vedi quando mi funziona la suola? Come vado? Come viaggio? Dai se ne va E se ne va E se ne va E se ne va E se ne va dalla montagna Con E9 Ampsic No Icardi sei in mezzo Da paura raga Subito alla prossima Noi ci siamo Tre punti Si comincia bene questa ottava divisione Allora seconda partita E c'è Tacco C'è un grandissimo Martial Che uno fa Quale arti Martial E quindi Vediamo che Siamo per giocare E io ho fatto questa cosa Per svagare Dalla battuta di merda Che ho fatto Si Vabbè partiamo Perché regà Oggi bisogna far percorso Partiamo Partiamo Ah è rientrato Salah ma abbiamo Tutto io a Gervinio Perché stava un po' A terra col morale Quindi che c'avevamo? Quindi c'è sta Salah Eeeh Al posto di Gervinio Di Aic Ma che a me sta Pia per culo Abbiamo di Aic Al posto di Gervinio E tu mi hai detto E quindi c'è sta Salah Al posto di Gervinio Tec Sotto Sotto Tec Oddio 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 Oh 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 Ridendo Oh 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 Guarda Salah Guarda Salah Sopra Sopra Vandala sopra Eh te l'ho mandato Dovi far più Tanti alto Eh lagga Lo vuoi capire Capito ma quale C'è se te lo fai prima Lagga un po' Ma magari Lo so ma non Il timing è quello Vabbè così Dekuz 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 Eeeh Oh 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 Ma che cazzo è successo? Non lo so Io ho detto, ho tirato Però è meglio che piava la punzina Ma sai Ah, ho mai steso a me, testa di cazzo Ha segnato? Senti rotta, abbiamo vinto No, non era, no, avevamo pareggiato, sicuro Non a noi No, non c'è da noi Dai, cos'hiamo perso il contratto Che fai Illuminati Illuminati Allora, c'ha una spagnola, una spagnola media Si, dai, dai, si può fare, si può fare No, no, noi grazie a questa partita abbiamo rimesso Anziché Gervinio Quindi adesso abbiamo la squadra più forte possibile Immaginabile della Madonna Si, manca solo Kuliba Allora, dai, speriamo che non lagga C'è un po' di nebbia, niente È una partita normale, in sé riesce a fa Però forse non lagga Ma suona a Milano Lucas L'ho mandato Mohameddino Che cazzo fa? Asalta la palla, mortaggio Si, salato, c'ha sta cosa che devi sempre saltare la palla Saligno Saladino Saladino Sin Salabim Un po' di tutto Oddio È un mancino Che cosa l'ha fatto? Si, ma è un mancino Ma zante è brutto Oddio Oddio Salah Oddio Salah Oddio Salah C'è sta i card in mezzo volendo Oddio Ma che cosa l'ha fatto? No, ma raga Salah è devastante Eh, no, vabbè, ma perché? Perché sti buchi? Perché sti buchi, le merda Dai Guarda, ma è passato in mezzo a 11 giocatori Tu madre Tu madre Che cazzo? Pompina era di merda La cattiveria Passato Guarda, guarda Mica la Ria ci ha passato al volo Gervinio È troppo difficile per lui Oddio, i card L'ho visto, l'ho visto Non te lo cagare Sii Tutto ribandato Le vedi Le vedi le ha sette maniche Le ha sette maniche Questo è come Ash quando si girava il cappello, regà Si, uguale Si tira sulle maniche Però, io segno Eh, grazie al capo 3 a 1 3 a 1, regà Poi, la prima volta è che mi ci vuole partire tutto insieme Vabbè, muento, dai Non è mai detto perché magari scuilla il telefono come dici, capito? No, c'è il mio testo è già stato il telefono Dai Vabbè, magari attacca e perichiamarlo, capito? Richiama Richiama Richiama, richiama Ma perché? La tua adamsi L'hai avuta, io l'ho avuta per 3 minuti Te l'hai avuta per 10 secondi Eh, ma io l'ho passata subito Pure io potevo mettermi a dribblare Quanto cazzo ti pareva Guardate, goods E finisce qui, ragazzi Incredibile Abbiamo vinto due partite su due Che cosa sta succedendo? Che squadra siamo? E sempre contro squadre più forti di noi, tra l'altro Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto Continuate a sostenere il Laci tua Team E niente, adesso compreremo Pianish Perché dovremmo esserci arrivati Quindi alla prossima partita avremo Pianish Al prossimo episodio Lasciamo 3000 like se vi è piaciuto Noi ci becchiamo al prossimo video E bella